Andiamo avanti con l'ultima concorrente della seconda categoria. L'ultima concorrente, chi è? Diccelo, diccelo. Karima Trombetta. Quindi con lei si conclude questa seconda categoria dai 12 ai 15 anni. Buonasera, Karima viene da Cerveteri e ci canterà una canzone di Cristina Aguilera, Bound to You. A voi Karima. 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 Karima. A voi Karima. A voi Karima. A voi Karima. 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 Karima.